Ci troviamo in questo bellissimo panorama della Fortezza di Arezzo per il premio Fideltà al Lavoro con Marco Randellini. Come va quest'anno e come è organizzata la serata? È una serata che ha un suo cliché consueto con premiazione di 37 imprenditori che sono stati selezionati da un'apposita commissione con 5 categorie che riguardano l'impegno imprenditoriale, quindi imprese che hanno oltre 20 anni di attività, l'innovazione, la digitalizzazione, l'industria 4.0 e soprattutto anche l'internazionalizzazione che caratterizza fortemente il nostro territorio. Uno spazio particolare dedicato anche all'imprenditoria giovanile e femminile perché ovviamente anche questa completa il panorama del nostro tessuto economico. Questa sera andiamo a fare una premiazione con tanti imprenditori e anche tante autorità, secondo un modello ormai consolidato che è praticamente una festa anche perché ci sarà un intrattenimento musicale. Vogliamo veramente far festa per congratularsi con questi imprenditori che hanno dato prova di crederci nella ripresa e anche di resistenza, nonostante le difficoltà. Dalle storie di queste imprese che cosa emerge per quanto riguarda l'economia retina e anche per quanto riguarda modelli, testimonianze che possono essere magari anche riprese? L'insegnamento che se ne deve trarre è un grande impegno, una grande tradizione, una grande capacità di adeguarsi, di modellarsi, anche di cogliere delle opportunità. Alcuni premi di questa sera riguarderanno l'innovazione, quindi sapere affrontare anche quelli che sono stati sfide come impresa 4.0. Poi ovviamente premeremo giovani imprenditori, donne, ovviamente poi sarà tutto un, credo, tante sfaccettature e tante imprese che testimonieranno quello che dicevo prima. Per i dati e per il momento che stiamo vivendo invitiamo tutti alla giornata dell'economia che si terrà fra qualche giorno alla Borsa Merci qui ad Arezzo. Sarà un'occasione quella davvero per dare i numeri, in senso buono naturalmente, per descrivere la situazione in modo molto puntuale e crediamo anche utile per capire meglio il nostro territorio e il nostro mondo imprenditoriale.